Per gli ultimi due mesi di permanenza della Biosfera in Piazza del Popolo, Pesaro 2024 lancia la prima edizione delle Biosfera Prize, un concorso unico al mondo che chiamerà raccolta creativi, artisti, designer e musicisti a realizzare nuovi contenuti di opere audiovisive specifiche che esplorino con la Biosfera la connessione fra natura, arte e tecnologia che è stata il filo conduttore dell'anno di capitale della cultura e della Biosfera stessa. Entro il 15 dicembre andranno recapitate opere audiovisive di un massimo di 6 minuti con una preview di 2 minuti. Il concorso supportato dalla Casa delle Tecnologie Emergenti consentirà ai partecipanti di cimentarsi con intelligenza artificiale, machine learning e simulazioni generative 3D. La giuria composta da esperti nominati da Fondazione Pescheria premierà il vincitore con 4.000 euro e attribuirà tre menzioni speciali con un premio monetario di 500 euro. Le opere saranno presentate durante la cerimonia di chiusura di Pesero 2024. Questo ci permetterà nei tempi poi della realizzazione del concorso di dotare innanzitutto la Biosfera di una nuova library di contenuti che possa essere utile sia per i mesi ancora di permanenza nell'anno previsto in Piazza del Popolo che anche nelle nuove sedi di cui si deciderà poi di andare a collocare o a far circuitare la Biosfera. Allo stesso tempo è anche un'occasione diciamo internazionale per singoli artisti creativi ma anche per università, per centri di ricerca, un po' come è stato anche con il fortunatissimo concorso della Sonosfera che poi è arrivato a coinvolgere anche l'IRCAM e il Centro Popidu di Parigi. pensiamo che allo stesso modo lo strumento Biosfera possa diventare una tela digitale audio-video su cui poter richiamare artisti da tutto il mondo a cimentarsi dando quindi una nuova centralità a Pesero e quindi anche un elemento di rilancio naturalmente che va oltre i mesi della capitale della cultura.